per te non so che cosa non farei la vita ti regalerei ma rinuncia ma vuole bene 52 minuti dopo le 22 diretta mondiale su www.radios.it Angelo Santilli in voce con voi buonasera sentiamoci dopo tanto tempo abbiamo sentito nel nostro appuntamento Mauro Nardi, Ciro Colella, Nello Amato avremo avremo Gigi Finizio, Gigi D'Alessio, Renzo Arbore e Massimo Ranieri insomma ne avremo tanti oggi abbiamo un altro nostro cantante bravissimo che si chiama Salvo Scarcella, Salvo buonasera buonasera Angelo come stai? Ben sentito? tutto bene Angelo tutto bene Salvo, siamo in diretta nazionale e siamo contenti di averti con noi perché abbiamo mandato in onda il tuo nuovo disco siamo fieri naturalmente di averti come sia ascoltatore perché sai che tutti gli altri cantanti ci ascoltano è una cosa che a noi ci fa tanto piacere e soprattutto per le tue belle canzoni che hai cantato e che canti con il cuore Salvo grazie Angelo, è tutto mio comunque, complimenti comunque per questa bellissima emittente grazie, grazie veramente bella, bella veramente, complimenti uno come te, dai i complimenti grazie, i complimenti vanno anche al nostro tecnico poi sicuramente avrò il modo di fartelo conoscere che ha coadiuato tutto il nostro studio sembra una cabina di pilotaggio questo studio, Salvo credimi lo immagino e poi lo puoi anche vedere, hai visto quante attrezzature ci sono vabbè comunque ci impegniamo per questo, grazie anche a Ivan Cianchetta che è il nostro direttore artistico che insomma se non ci fosse lui, Salvo io sarei solo qua a parlare complimenti, complimenti anche a lui Salvo senti, stavamo parlando prima in privato e mi hai detto che praticamente hai girato anche un video in televisione, no? sei stato ultimamente sono appena tornato da Napoli, ho fatto una diretta televisiva su a Napoli e ho mandato diciamo il mio nuovo inedito che si intitola, diccelo tu cantautore diccelo tu come si intitola questo sono cantautore delle mie canzoni, cantautore cantautore, anche perché scrivi delle bellissime canzoni noi in sottofondo stiamo ascoltando una canzone che tu hai ricantato di un grande cantante italiano ce l'abbiamo in sottofondo e io non mi ricordo nemmeno il titolo penso un po' ma chi se ne importa ma chi se ne importa Gianni Morandi grandissima in reinterpretazione che stiamo senti, senti Salvo Scarcella che ci stiamo parlando tra l'altro sentite che bella voce che ha complimenti Salvo anche la canzone italiana ti sta bene oltre ad interpretare in modo magnifico il grande melodico napolitano, no? grazie Angelo, grazie grazie a te Salvo senti io non vedo l'ora di... Salvo, noi lo diciamo però tu mi hai promesso che almeno quest'estate qui in diretta alla radio ci devi venire sì sì ci vengo contaci Angelo perché sto già lì, non mi preoccupare perfetto tu sei nostro ospite naturalmente sarai qui in diretta alla radio con noi faremo una bella puntata insieme a te e proporremo tutte le tue canzoni Salvo io ti mando un bacio a te, a tutta la tua famiglia un saluto lì a Milano, se non mi sbaglio, vero? sì, a Milano a Milano un bacio grande, grande, grande spero che domani sera se non hai impegni naturalmente lavorativi sarai con noi perché noi domani sera saremo ancora qui ok? non mancherò Angelo non ti preoccupare saluto anche io, a te, a tutta la tua famiglia a tutta la fascia d'ascolto grazie ci fai un saluto a tutti gli amici a tutti gli amici di Radio S a tutti gli amici di Radio S esatto perfetto grazie Salvo un bacione grande, grande ciao Angelo un abbasso circolare a tutti ciao Angelo ciao caro ciao 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 alla prossima ciao